Ciao amici, oggi ci occupiamo delle allergie a inalanti e a polveri che ci sono nell'ambiente. Soprattutto in periodi in cui cambia la stagione, in primavera, notturno, ci sono dei pollini e ci sono molti pazienti, molte persone che cominciano ad avere delle problematiche. Di solito sono prurite a entrambi gli occhi, lacrimazione, una rinite, un raffreddore, il naso che cola. Tutto questo è qualcosa di estremamente fastidioso che poi può dare anche delle complicazioni. Una banale sinusite allergica può dare origine invece a una sinusite purulenta con l'attacco da parte di microbi, di batteri. Queste forme di allergie riguardano anche, sono a volte professionali, riguardano i giardinieri quando tagliano in giardino, i falegnami che sono a contatto con la polvere di legno, i fabbri, quelli che lavorano col marmo e quindi la problematica a volte, soprattutto per queste ultime professioni, può andare ancora più in giù rispetto alle vie aeree superiori. Si può arrivare anche ad avere i propri attacchi di asma. Gli esami che bisogna fare sono degli esami del sangue, dei componenti allergici che si possono evidenziare, fare dei test cutanei e quando ci sono attacchi di asma comunque va fatta una radiografia del torace e una visita dall'opneomologo. La cura per fortuna c'è, sono gli antistaminici e il cortisone, però naturalmente tutto questo è sotto controllo medico. Però naturalmente si guarisce temporaneamente quando si prende il medicinale, ma poi se rimane il contatto con la sostanza allergizzante e il contatto continua nel tempo, il disturbo permane. Allora in questo caso ci sono delle situazioni di vaccini personalizzati, anche se può sembrare troppo prudenziale, io suggerisco sempre di informare il medico di questa problematica perché possa rilasciare un attestato, un certificato che la persona ha una tendenza alle allergie, per cui se si capita poi alla guardia medica dove c'è un altro medico, quindi non il medico di fiducia, oppure si va in un pronto soccorso, è giusto che il medico sappia prima di iniettare qualunque tipo di farmaco che la persona ha una tendenza alle allergie. A parte esistono anche allergie da contatto, ci sono persone che praticamente hanno tutti questi disturbi, la cremazione, l'articaria, perché hanno il cane in casa, il gatto, quindi sono allergiche ai peli degli animali domestici, oppure usano guanti, orecchini, hanno contatto con dei metalli, addirittura colla di cerotti, ci sono cerotti che quando poi si staccano danno una zona arrossata che è pruriginosa. La cura, come abbiamo detto, in questo caso però, quando è un'allergia da contatto, con delle creme antistaminiche e delle creme a base di cortisone. Ecco, questo è un piccolo riassunto di quello che può succedere quando una persona di per sé ha una tendenza alle allergie. Grazie. Grazie. Grazie.